Lavoriamo per consolidare l'alternativa politica già in atto a Napoli a quel modo di fare politica che è l'esperienza che noi abbiamo messo in campo. Una politica dalle mani pulite, dal coraggio, onestà, dall'applicazione dei valori costituzionali, nel costruire una comunità in cui tutti i cittadini siano protagonisti della politica, in questo caso cittadina. Un domani ci auguriamo che questa metodologia, questa prassi, possa allargarsi sempre di più in tutto il Paese. Mi sembra evidente che la Segreteria Nazionale e i vertici del Partito Democratico ritengono che a Napoli all'emiprimare non è successo quasi nulla, che è tutto a posto. Bene, questo dimostra che quello è un modello completamente alternativo al nostro e che evidentemente non c'è stata nessuna innovazione in quel campo, nessuna rottamazione, nessun cambio verso, nessuna volta buona, perché i vertici della Segreteria Nazionale del PD sanno perfettamente che quelle metodologie in quel ceto politico, in quella parte di politica in questi cinque anni non è cambiata. Quindi evidentemente la vogliono così, perché evidentemente per loro è un modo di captare consenso, quella è la corrosione della politica democratica. Ecco perché noi lavoriamo per costruire sempre di più alternative a quel ceto politico. Con questo non voglio dire, anzi, partilese in questa vicenda sono anche i tanti elettori del Partito Democratico che alle primarie sono andati a votare, evidentemente pensando di trovarsi di fronte a una competizione diversa. E poi chiaramente in qualche modo spiace che venga chiusa così definitivamente o voglia essere chiusa così sbrigativamente dal Partito Nazionale una questione che ha anche prodotto un danno poi alla fine alla città di Napoli, perché anche oggi ci troviamo a raccontare che Napoli non è quella parte politica che governa, anzi quella ha governato per tanti anni, l'abbiamo sconfitta cinque anni fa, adesso vorrebbero ritornare a governare con quelle metodologie, ma io sono certo che saranno i napoletani a respingerli al mittente. Noi abbiamo pensato alla quotidianità, alla città, a tutti i quartieri, agli eventi, ai grandi eventi e adesso Napoli è talmente cresciuta sul piano culturale, sul piano turistico e sul piano internazionale che i grandi eventi sono diventati eventi ordinarie. Tanto è vero che vogliono venire tutti quanti a fare eventi nella nostra città e questo evidentemente è merito dei napoletani che ci stanno credendo, è merito di questa amministrazione che non ha mai mollato ed è una città che si sta riscattando. Lettieri forse è l'unica cosa che mi sentirei di dire che in questi cinque anni di consigliere d'opposizione avrebbe potuto dare magari un contributo, un contributo fino anche per migliorarci perché noi non siamo i depositari della verità, invece non si è quasi mai visto in Consiglio Comunale, non si è visto per la verità nemmeno in città e si caratterizza solamente per una campagna elettorale contro la persona, quindi evidentemente ha pochi argomenti politici come vediamo, dice sempre contro, ma a noi va bene così, noi facciamo la nostra campagna elettorale, cerchiamo di costruire liste di qualità, forti, radicate sul territorio, con persone per bene, ben riconosciute nella loro storia personale, non guardiamo agli altri e parliamo alla città, tutta la città senza confini, senza delimitazioni di campo, gli altri facciano quello che ritengono, insomma a me non sembra che però Bassolino, devo essere sincero, sia qualcosa di diverso rispetto a quello che è venuto fuori con la Valente, cioè per me Valente e Bassolino rappresentano lo stesso ceto politico, nel senso che Bassolino, l'ho detto in questi giorni, secondo me non è stato sconfitto in modo pesante da queste primarie perché ha perso per pochi voti, ma che oggi passi per essere il vincitore morale delle primarie, non fanno poco sorridere, la Valente egemmazione di Bassolino e quello è il modo con cui si è fatta politica per tanti anni in una parte significativa del PD, l'abbiamo visto chiaramente, la fotografia di queste primarie è la stessa di 5 anni fa, 5 anni fa c'era Bassolino ancora che cercava di portare i suoi candidati, Tonino Borriello, uno dei protagonisti di questi giorni è stato uno dei principali portatori di voti di Bassolino nel passato, adesso si è girato e ha sostenuto la Valente, insomma siamo là, sono sempre gli stessi, mi sarei aspettato semmai un maggiore slancio di innovazione da parte di un Sarracino per esempio che poteva rappresentare, vediamo se ci sia in questi giorni una parte del PD che decida di fare scelte diverse, c'è un elettorato al quale noi parleremo perché secondo me è importantissimo parlare all'elettorato del PD che è fatto di tanta gente per bene, che vorrebbe evidentemente un altro centro-sinistra rispetto a quella fotografia di queste ore, perché quelle immagini sono veramente inequivocabili su come si sono portate alcune persone a votare, sono fotografiste incredibili, io più le vedo più non sai se piange o sorride. Io il punto d'incontro lo cerco sempre, lo cerco sui programmi, sui contenuti, il punto d'incontro lo cerco soprattutto con gli elettori, io su tante cose penso di aver applicato concretamente tantissimi contenuti e loro battaglie, tanto da essere tra virgolette più 5 stelle forse di tanti 5 stelle, perché poi siccome a parole possiamo essere tutti d'accordo, questione morale siamo tutti d'accordo, poi vai a vedere quando governi una città grande o una città piccola o una città che cosa succede sull'acqua pubblica, sugli inceneritori, andiamole a vedere le amministrazioni guidate dai 5 stelle, l'acqua pubblica non c'è, gli inceneritori ci stanno ancora a Parma dopo 5 anni di Pizzarotti, il sindaco di Livorno sta amministrando in diversi momenti con i rifiuti per strada, quarto che la prima amministrazione a guida 5 stelle della città metropolitana di Napoli è stata travolta nello scandalo dei rapporti da politica e camorra, quindi io continuo a ritenere che molte loro battaglie sono le nostre lotte che in parte abbiamo già realizzato e quindi io continuerò a cercare un punto d'incontro sui contenuti, con l'elettorato, sui programmi, poi se loro fanno una scelta di candidare una persona alla guida di sindaco è un fatto legittimo e andremo con lealtà a confrontarsi anche con loro, nessun problema, anzi più gente siamo meglio stiamo alla fine.